Dopo la presentazione nello scorso fine settimana a Teggiano è partita ufficialmente la scuola di ciclismo di ciclo Team Tanagro e i Bike Tour Cilento. Si chiama Tanagro Bike School ed è stata pensata per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni che intendono avvicinarsi alla disciplina sportiva. Ieri pomeriggio l'Open Day, i giovani amanti dei pedali si sono ritrovati al Parco dei Mulini di San Pietro al Tanagro, dove si tengono le lezioni a cadenza regolare due volte a settimana, il martedì e il giovedì. Ieri hanno partecipato in 40 circa, suddivisi per fasce d'età tra i 5, 6, 8, 9, 11 anni. Mancavano i più grandi ragazzi che avevano il rientro pomeridiano a scuola, quindi il numero dei partecipanti è destinato a crescere nei prossimi appuntamenti, commentano gli organizzatori. Oltre alle elezioni bisettimanali c'è il sabato che è dedicato ai bambini dai 6 anni in su per escursioni, sempre in bici, ma fuori dal campo di gara, approfittando della pedalata per portarli a visitare i bei posti del Vallo di Diano. La Tanagro Bike School ha lo scopo di avvicinare i giovani al ciclismo. Le lezioni, con istruttori qualificati della Federazione Ciclistica Italiana, sono incentrate sull'insegnamento delle abilità tecniche in un ambiente sicuro e adatto all'attività ciclistica, ma sono anche occasioni per divertirsi in compagnia dopo mesi di restrizioni e sono una palestra per sviluppare anche abilità mentali, come ad esempio la concentrazione. Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori per il primo appuntamento di ieri, una sinergia, quella di ciclo Tim Tanagro e i bike tour Cilento, nata per la crescita del ciclismo e per diffondere la cultura delle due ruote nel territorio, partendo con questa iniziativa dai piccoli aspiranti bikers valdianesi.